All'inizio della stagione forse non era nemmeno considerato, a un certo punto della stagione sembrava un miraggio, in un altro momento lo abbiamo sognato, ma sicuramente questa squadra ha dimostrato ancora una volta per quello che ha fatto in questi ultimi 20 giorni con un Tour de Force di 6 partite in 18 giorni. Io posso semplicemente che ringraziare i miei ragazzi perché è incredibile quello che hanno fatto, avevamo definito il playoff un sogno, oggi il sogno è diventato realtà, penso che ce lo siamo meritati, ci gustiamo questa sera il risultato che è qualcosa che volevamo regalare a noi stessi, alla società, ai nostri tifosi, alla città di Chieti e basta, da domani sera si parla di playoff, o meglio di una fase d'orologio che ci deve preparare ad affrontare i playoff con la leggerezza di chi da Cenerentola si troverà al gran ballo finale senza essere stata invitata ma avendo meritato un invito al gran ballo e anche con anticipo, quindi non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi, al mio staff e questa vittoria ovviamente è un grandissimo premio per il lavoro di tutti.